Prova di forza, il Settebello vince ma soprattutto annichilisce la Grecia. 15-8 il risultato finale. Una condotta di gara perfetta, Azzurri sempre avanti con due protagonisti su tutti. Edoardo Di Somma, devastante, 5 gol e fermato solo dal VAR per un discutibile fallo come tanti altri. E poi Marco Dellungo che ha frenato ogni tentativo di rimonta della Grecia. A fine gara la soddisfazione del CT Sandro Campagna. Abbiamo giocato bene, all'inizio abbiamo sofferto i loro movimenti, soprattutto i blocchi 4-5, 1-2, da una parte all'altra e potevano permettergli di dare la palla al centro buono. Oltre che abbiamo perfezionato questo aspetto, la palla al centro non arrivava così facile e quindi abbiamo fatto una difesa sia a uomini pari ma soprattutto a uomini meno di alto livello ovviamente. Ce lo siamo detti, noi dobbiamo crescere man mano che il torneo prosegue. Siamo in una fase di ancora un po' di carico, quindi ci stiamo ritrovando. Ora finalmente iniziano le partite che contano, quelle dure, quelle toste, quelle che ci alleniamo ogni anno per affrontare queste partite. Vogliamo che arrivino e siamo contenti di questo. Grazie.